Buonasera a tutti anche da parte mia e grazie per l'invito. Io vi parlerò di educazione finanziaria da un punto di vista un pochino diverso da quello che avete ascoltato ora, perché noi ce ne occupiamo seguendo degli aspetti che forse hanno a che fare più con il coté diciamo sociologico e di cultura. Quindi in questo senso io andrò a riprendere alcuni dati che la dottoressa Soccorso appena ha commentato per proporveli sotto appunto un'altra ottica. Intanto vorrei definire meglio insieme a voi di che cosa stiamo parlando. L'Ocse che è l'ente di riferimento a livello internazionale quando si parla di educazione finanziaria la definisce come un processo per acquisire consapevolezza che è qualcosa di cui abbiamo parlato fino adesso. Il problema grosso del nostro paese è che c'è un livello di cultura finanziaria ancora troppo basso ma soprattutto c'è pochissima consapevolezza sul problema di fondo. Quindi da un lato cerchiamo di costruire consapevolezza e poi vedremo con quante difficoltà. Dall'altra parte cerchiamo di fare in modo che i cittadini abbiano degli strumenti per riuscire ad affrontare in maniera più strutturata, più sistematica e più consapevole proprio alcune decisioni legate al loro denaro. È assolutamente una competenza fondamentale, è ovvio quella dell'educazione finanziaria perché aiuta le persone a gestire in maniera un po' più corretta ed equilibrata una risorsa che per definizione purtroppo è scarsa. Detto questo, che quindi ci inquadra perfettamente il tema, la gravità del problema abbiamo un altro fatto che dobbiamo prendere come evidenza cioè il fatto che in Italia purtroppo ancora c'è poco interesse nei cittadini in generale io non sto parlando naturalmente in quelli che sono magari già investitori sto parlando proprio della popolazione nel suo insieme quindi con tutte le sue varietà anche di quella fascia più bassa di cui si tende a occuparsi meno quando si parla di educazione finanziaria invece per noi è molto rilevante. Quindi vi dicevo, purtroppo non c'è consapevolezza di questo problema. Guardate un po' qual è la situazione questa è una rilevazione, io purtroppo ho problemi di occhiali ma questa è una rilevazione di Standard & Poor's quindi è l'indice globale di cultura finanziaria risale a 2015, colloca l'Italia in quella colonnina arancione piuttosto esigua come vedete quindi un risultato che conferma quello che stiamo dicendo qualche dato che è tratto proprio dalla ricerca che fa Consovo ogni anno quindi alcuni sono già stati ripresi dalla dottoressa Soccorso in grande sintesi 40% solo delle persone intervistate sa definire l'inflazione e comprendere che cosa significa quando si parla di rapporto tra rischio e rendimento solo 4 italiani su 10 non sono in grado 4 italiani su 10 di investire correttamente il loro risparmio e spessissimo lo fanno a caso e questa è una cosa gravissima che ha portato poi a drammatiche situazioni di cronaca che tutti noi ricordiamo comportamenti è stato detto lungamente distorti ancorché dovrebbero essere comportamenti guidati da pura razionalità sappiamo non essere così che cosa succede però secondo un'altra ricerca per noi molto interessante che è stata fatta in autunno da Intesa San Paolo col centro in Audi risulta che gli italiani che si erano naturalmente occupati di più dei loro soldi e quindi avevano affrontato anche temi di economia e di finanza sembrerebbero avere un po' abbandonato l'interesse per l'argomento con l'attenuarsi della situazione di crisi questo naturalmente non è un dato positivo così come dalla stessa ricerca emerge il fatto che i giovani italiani siano davvero molto poco interessati a questo argomento che è evidente perché loro non guadagnano ancora soldi non li devono gestire ma ricordo a tutti che loro devono essere consapevoli che nel frattempo il mondo sta cambiando lo scenario previdenziale che quindi riguarda il loro futuro è molto diverso e quindi i ragazzi devono abituarsi a considerare il denaro uno strumento di benessere di cui non possono disinteressarsi non più tardi di un paio di settimane fa sono stati presentati a Parigi i risultati di una rilevazione che Oxe fa all'interno del programma PISA che è un programma di assessment delle conoscenze dei giovani quindicenni in diversi paesi del mondo questa è la seconda rilevazione che viene fatta per andare a mappare le competenze finanziarie dei quindicenni anche in Italia vedete che non siamo in una situazione perfetta siamo tra il settimo e il nono posto su 15 paesi che hanno partecipato a questa ricerca sul livello internazionale l'edizione precedente presentata nel 2015 quindi su dati del 2012 ci collocava alla 17esima posizione su 18 paesi monitorati segnale che un po' ci incoraggia vuol dire che qualcosa sta cambiando però poi vedremo che purtroppo in Italia ci sono ancora dei problemi strutturali per cui nemmeno i giovani attraverso la scuola riescono a essere raggiunti in maniera sufficientemente efficace vediamo allora molto rapidamente che cosa sta succedendo in Italia quindi un po' di scenario che cosa è successo in questi anni? nel 2015 la legge sulla buona scuola ha stabilito che le competenze economiche di base dovessero entrare nelle scuole di tutti i gradi come competenze di cittadinanza indispensabili attenzione questo significa che viene riconosciuto l'importanza di questo tema ma non viene inserito nei programmi curricolari è ovvio quindi si dice tra le competenze che la scuola deve sviluppare c'è anche questa ma non dice come e purtroppo ad oggi non sono ancora state nemmeno emanate delle linee guida che spieghino a quei poveri insegnanti come fare a raggiungere questo obiettivo quindi abbiamo una legge che colloca l'economia e l'educazione finanziaria dentro alla scuola ma non sappiamo ancora come si fa ad applicarla poi abbiamo un tavolo di lavoro che il Ministero dell'Istruzione ha costituito nel 2015 a cui siedono 13 soggetti prevalentemente istituzioni pubbliche abbiamo l'onore di esserci anche noi come Feduf e c'è anche l'ABI che cercano di fare in modo che le molte offerte formative che ci sono nella scuola possano in qualche modo operare con maggiore sinergia per cercare proprio di portare quei risultati che ahimè non sono ancora facilitati da delle indicazioni ministeriali chiare e poi che cosa succede ne parlerà meglio dopo l'onorevole Bernardo ma nella legge salva risparmio approvata lo scorso febbraio è stato inserito un emendamento che dice che anche l'Italia dovrà essere dotata di una strategia nazionale e questa strategia nazionale dovrà essere elaborata da una commissione un comitato nazionale composto da soggetti istituzioni pubbliche quindi ministeri autorità di vigilanza e una rappresentanza del comitato nazionale delle associazioni dei consumatori che dovranno definire delle linee guida questa è ovviamente una buona notizia perché come vedremo dopo sono tante è stato detto le iniziative che ci sono ma senza un diciamo tessuto organico strutturato che cerca di dare continuità progettualità a questo processo virtuoso purtroppo è difficile riuscire ad ottenere dei risultati intanto misurabili ma soprattutto continuativi e sistematici nonché nazionali allora che cosa succede ad oggi quindi abbiamo visto qual è il quadro abbiamo visto prima qual è il problema abbiamo visto qual è il quadro in cui ci muoviamo vediamo qual è il quadro degli attori che si muovono in questo campo sono tanti in realtà sono tanti sono sempre più anzi diciamo sono tantissimi soggetti privati quindi il mondo delle banche in generale il mondo il settore finanziario è da sempre molto attento e molto attivo le banche lo sono dal lontano 2007-2008 quando si è cominciato a parlare di educazione finanziaria nel nostro paese lo sono naturalmente le istituzioni prime tra tutta Banca d'Italia che oggi non c'è che è naturalmente molto attiva nelle scuole e con un protocollo con il ministro dell'istruzione così come noi abbiamo un protocollo quindi ci sono istituzioni che a livello nazionale in maniera sistematica continuativa penso a Banca d'Italia e a noi Feduf portano i programmi nelle scuole di tutti i gradi quindi lavoriamo su tutte le età in tutta Italia gratuitamente da anni malgrado questo vedete i risultati del lavoro fatto nelle scuole quindi non sono ancora rilevabili dei miglioramenti no purtroppo non è questione di cambiare i programmi purtroppo è proprio questione di avere dei canali che consentano di organizzare tutto ciò in una maniera sistematica perché i programmi sono tanti poi lo vediamo parlano di moltissimi argomenti hanno approcci diversi quindi sono davvero molti i modi per proporre questa materia che vedremo alcune difficoltà quindi lo vedete moltissimi progetti di valore ma mancanza di sistematicità lo scorso 18 gennaio qua a Roma è stato presentato in Banca d'Italia una rilevazione nazionale che abbiamo fatto tutti insieme cercando di andare a mappare le varie iniziative disponibili abbiamo visto che sono tante però le abbiamo poi anche analizzate e queste iniziative risultano essere per la maggioranza stragrande maggioranza dei casi dei progetti che hanno interessato dei gruppi di persone estremamente ridotti sono molto spesso progetti che non continuano nel tempo o comunque che si rivolgono a fasce di popolazione diverse vedete che sono divisi in tre aree sostanzialmente ci sono progetti puramente informativi ci sono progetti più educativi e ci sono dei progetti invece di sensibilizzazione sono tutti differenziati per target perché poi vedremo ma è stato detto quanto è importante parlare alle persone degli argomenti di interesse in quella fase della vita e nel momento in cui gli è utile ascoltarli i principali soggetti ve lo dicevo prima il mondo soprattutto finanziario e un gravissimo problema che stiamo tutti cercando di affrontare è quello di andare a valutare l'efficacia di questi programmi non è affatto facile vi devo dire le banche allora io lavoro per una fondazione molto piccola come struttura anche molto giovane perché abbiamo meno di tre anni di vita è una fondazione privata che è stata costituita voluta dall'ABI quindi il nostro fondatore è l'associazione bancaria italiana è finanziata prevalentemente da banche in modo assolutamente non obbligatorio quindi le banche interessate lo fanno le altre no sempre più sta attraendo l'interesse di soggetti del mondo finanziario che non sono banche o del mondo delle fondazioni quindi una piccola fondazione che cerca di essere nella sua missione statutaria che prevede che la nostra attività sia esclusivamente di divulgazione dell'educazione finanziaria cerca di diventare un po' un punto di aggregazione dei tanti privati che da anni stanno impegnandosi in quest'ottica allora è chiaro che il modo in cui noi facciamo educazione finanziaria ve lo dicevo è più rivolto alla cittadinanza economica quindi costruire in Italia una cultura di attenzione all'uso consapevole la vedo un po' titubante ma poi ne parleremo sì dopo dopo però io la faccio sono maleducato l'Ocse nella dedizione che ha dato allarga molto di più di quello che ha detto lei e questo secondo me è la questione perché la dedizione l'educazione dell'Ocse fa ricadimento alla formazione l'istruzione della consulenza oggettiva in un palco la capacità e la fiducia necessaria per le altre scelte informate comprendere a chi chiedere in consulenza e mettere in alto altre azioni efficaci per migliorare ma questo allora è fuori di dubbio adesso non voglio perché c'è una moderatrice che ha richiamato allora è chiaro che io vi sto facendo delle massime sintesi perché se voi volete che io vi faccia una conferenza uscite da qui domani mattina quindi io sto e guardate che non sto scherzando chi mi conosce lo sa essendo molto appassionata e molto esperta anche io è chiaro che come dice lei io ho preso solo il pezzo attinente al tipo di lavoro che facciamo noi noi Feduf parliamo di quella roba lì lavoriamo su quella che non esclude affatto tutto il resto delle come dire punti di vista che l'Ocse assolutamente dà quindi siamo assolutamente d'accordo io vi sto dando il nostro punto di vista il nostro modo di lavorare il valore di questa cosa che io vi racconto è proprio che ognuno affronta un punto di vista diverso quindi la Consoba pronta al suo Banca d'Italia al suo messi insieme forse riusciamo a fare qualcosa se ognuno l'affrontasse solo per il suo verso purtroppo trattandosi anche di un problema di cultura e quindi sociologico non si riuscirebbe temo ad arrivare da nessuna parte prima di un secolo quindi questo ha ragione grazie è da chiarire allora tornando a me vi dicevo che cosa fa sta fondazione affronta l'educazione finanziaria non in modo tecnico ma come tema di cultura del paese stiamo parlando di un livello di responsabilità sociale quindi tutti quelli che lavorano insieme a noi ce ne sono alcuni anche in questa sala lo fanno con quell'ottica lì noi non andiamo a vendere nulla non andiamo a promuovere prodotti non cerchiamo di portare a investire no noi cerchiamo di spiegare agli italiani che se loro non si occupano dell'economia l'economia si occupa di loro e questo non è mai un bene quindi questo è il posizionamento lo facciamo però lavorando non solo con i privati che ci finanziano e che quindi con cui lavoriamo in realtà ma con tutte le istituzioni proprio perché collocandoci in questo livello di responsabilità non esiste alcun tipo di inquinamento diciamo commerciale in quello che noi facciamo nella nostra finalità quindi la FEIDUF che ha questo acronimo orribile è in realtà un soggetto accreditato presso il ministero dell'istruzione e tantissime altre autorità centrali e locali come partner privato questo qui ci tengo molto a dirlo perché credo sia una posizione particolare allora vado velocissima perché se no io sforo solo per dirvi che appunto che cosa succede lo dicevamo prima che purtroppo le persone normali la gente della strada dice perché mi viene a parlare a me di educazione finanziaria l'economia è difficile io non capisco niente nemmeno posso capire perché è un tema da detti ai lavori quindi non mi interessa niente quindi quello che noi cerchiamo di fare correndo è proprio quello di trovare un modo per mediare tra un argomento vissuto come difficile quindi vissuto con diffidenza ma soprattutto con tanto magari timore reverenziale con senso di inadeguatezza cerchiamo di trovare delle modalità di linguaggio semplici ma anche diciamo attraenti per far sì che le persone comunque si avvicinino abbiamo detto che purtroppo nel mondo in cui viviamo l'economia fa parte della nostra vita e non si può più dire che non siamo in grado di capire anche perché ci sono diecimila strumenti che ormai veramente rendono un po' più semplice questo processo quello che cerchiamo di dire qui è che ci sono appunto lo dicevo prima argomenti specifici di interesse per le varie fasi di età vado velocissima perché non ho tenuto il tempo però vedete solo così una scorsa alle cose che facciamo nelle scuole qui avete semplicemente le copertine dei programmi vedete che iniziamo con le fiabe già nella scuola dell'infanzia perché nella scuola dell'infanzia perché parlando i bambini attraverso le fiabe del valore del denaro del risparmio dell'equità si parla con i loro genitori si parla con i loro nonni quindi cerchiamo anche di avvicinare le famiglie in un'ottica di educazione economica dei figli naturalmente arriviamo fino alle scuole superiori e poi ancora andiamo avanti cercando di arrivare agli adulti insieme all'associazione dei consumatori è già stato detto prima quanto è difficile parlare di educazione finanziaria agli adulti non hanno mai tempo se ne occupano solo se in realtà hanno un problema è molto difficile che se ne occupino in fase di prevenzione di cultura ma questo non significa che non dobbiamo andare avanti assolutamente a farlo e a provare noi abbiamo messo a punto una marea di strumenti io non mi dilungo qui ma sono tutti contenuti vedete su questi beh qui abbiamo soltanto alcune foto noi facciamo maree di eventi quindi andiamo direttamente a parlare con le scuole gli insegnanti le famiglie eccetera ma soprattutto abbiamo realizzato due grandi portali uno è per il mondo della scuola e quindi contiene una marea di strumenti e di stimoli per gli insegnanti e le famiglie l'altro che vedete sotto si chiama cura i tuoi soldi ed è stato fatto invece per gli adulti è un portale nato a dicembre quindi ancora molto giovane su cui stiamo cercando di inserire dei contenuti basici per andare proprio ad avvicinare quelle fasce di popolazione di livello diciamo medio basso che tradizionalmente difficilmente andrebbero a guardarsi il sito del Sole 24 o magari anche quello della Consob di Banca d'Italia che pure hanno sezioni dedicate che sono state fatte con grande cura per abbattere le barriere diciamo culturali quindi questo e mi fermo qui è ciò che noi facciamo se avrete la bontà e la voglia di andare a visitare due siti cura i tuoi soldi punto it e scusate economia scuola punto it potrete scoprire poi nei fatti quante cose che non posso raccontarvi facciamo grazie infinite grazie